bello a tutti ragazzi e benvenuti sul canale oggi ragazzi dove venivate vedere il secondo episodio del napoli ragazzi spero non carico quello oggi perchè ho scoperto ieri sera c'è il venerdì sera dopo che finito il programma di 31 dicono conti ragazzi cioè i miliani aspetto che ste c'è il mondiale under 20 c'è la coppa del mondo under 20 e oggi vengo a dire perché for anche la grazie grazie no no come farò però farò allora ragazzi ora vi bene ora avete un minigrafico costo meno vabbè ragazzi con ragazzi nel gruppo a ragazzi sono sei gruppi da foto squadre ragazzi sono nel gruppo a sta argentina andare a vendere questo è questo coppa del mondo poi è argentina guatemala nuova nuova zelanda e ho 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 zebikstein proprio nel gruppo b e da ecuador figi sovacchia e stati uniti poi ragazzi nel gruppo c da colombia giappone israele e senegal grazie il gruppo d e da brasilia italia nigeria e repubblica dominicana poi ragazzi nel gruppo eda in interno c'è il gruppo è l'ultimo da francia gambia honduras e repubblica di corea ora lì perché per me è un po scomodo la prima lega la gioca il 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 21 cioè domani allora allora per i tre e prezzi l'intero giaccarà sempre il 21 alle 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 18 ed è buono ok poi la seconda giornata la lega la gioca i 24 che è e giocherà a loro eventi e poi lì giocherà la finale di copitalia grazie la cena di copitalia indefentino a alle ore 21 ragazzi non so come farò però di entrambe la reazione ragazzi nel tempo di italia in terra la farò alle 20 però ok il secondo tempo dell'italia e il primo tempo dell'inter secolo di rivele entrambi a una dal puntata dalla visione e dal pc e perché la gallina gioca alle 21 e poi ragazzi il 27 e poi l'inter giocherà la la serie a a livelli per la lingua quindi farò come come l'italia come la squadronata ragazzi se state tra il tuo video vuol dire che lo farò quindi ciao ragazzi ci vediamo domani con la doppia reazione in un unico video ovviamente grazie bella ciao ragazzi grazie a tutti Grazie.